Immagini di assoluta violenza virali sul web e che continuano a far discutere a distanza di ore e l'aggressione avvenuta all'Ocorotondo lo scorso venerdì sera ai danni di un carabiniere. Il militare era intervenuto per sedare le tensioni causate da un uomo di 45 anni in evidente stato di alterazione e che a torso nudo aveva creato il panico tra Corso 20 settembre e Piazza Vittorio Emanuele infastidendo e minacciando diverse persone. Il video ritrae il carabiniere a colloquio con l'uomo ma dalle parole si è passati presto ai fatti con la furia del 45enne sul militare quest'ultimo costretto ad arretrare dopo aver ricevuto un colpo al volto. L'aggressore già noto alle forze dell'ordine è stato poi fermato dallo stesso militare e portato in caserma al momento risulta denunciato a piede libero. L'episodio ha provocato diverse reazioni in particolare dal mondo della politica e del governo. Ferma condanna per la vila aggressione subita all'Ocorotondo dai componenti di una pattuglia dei carabinieri ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. La violenza che colpisce servitori dello Stato impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini è assolutamente inaccettabile e non deve rimanere senza conseguenze. Inaccettabile il senso di impunità che consente a dei delinquenti di picchiare un carabiniere che sta facendo il proprio lavoro rappresentando lo Stato, ha aggiunto il ministro della difesa Guido Crosetto. Di fronte ad atti così occorre rispondere con fermezza e dare l'esempio in modo tale che non accada più applicando la legge con durezza. E poi l'augurio di pronta guarigione al militare aggredito da parte del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, quanto accaduto è grave, ha scritto la mia solidarietà a tutte le forze dell'ordine che operano in prima linea per la tutela della sicurezza dei cittadini. Solidarietà e vicinanza al carabiniere aggredito all'Ocorotondo, ha sottolineato il senatore pugliese della Lega Roberto Marti, commissario regionale del partito. Un vile atto da parte di un pregiudicato nei confronti di chi svolgeva il suo lavoro, cercando di sedare una rissa, un'aggressione che va condannata senza se e senza ma.